Dopo un rinvio causa maltempo, la provincia di Pescara chiamerà al voto sabato 14 gennaio per rinnovare il proprio consiglio. Dopo la riforma dell'ex premier Renzi, che ha portato al declassamento ad ente di secondo livello delle amministrazioni provinciali, a votare non saranno i cittadini, ma solo i consiglieri comunali. Resta però da capire se quali modifiche verranno apportate all'ente, che ha visto fallire il piano di abolizione con il referendum dello scorso 4 dicembre. Il governo dovrà rivedere la norma finanziaria intanto riguardante le province, perché noi con i tagli attuali non consentiranno a nessuna provincia italiana di fare il bilancio 2017, il che significa interrompere servizi quali la viabilità e le scuole. Ed è evidente che è un assurdo sul quale noi non possiamo assolutamente tardare rispetto alle novità che il governo ci dovrà assolutamente comunicare a breve. Rispetto al voto, che non è ancora tornato a essere il voto popolare come erano le province precedenti, è detto presto perché dipende dalla legge che è stata quella del Rio a riformare questo metodo ed è anche ritenuto costituzionale come sistema legislativo. Quindi la legge del Rio è in vigore e noi andremo a gestire queste competenze. A polemizzare sulla mancanza di rappresentanza popolare del voto è Rifondazione Comunista, che spiega come il voto esclusivo dei consiglieri comunali possa sovvertire quelle che erano state le preferenze di voto dei cittadini, compresi i cambi di casacca. Nel solito stile di Alfonsiano, la lista che noi non chiamiamo di centrosinistra, perché la solita cozzaglia, presenta per esempio il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, è eletto con i voti del centrodestra e così, perché non c'è più il voto popolare, il pacchetto di voti si trasferisce, si fa il solito salto della quaglia e nelle fila, diciamo, d'Alfonsiane e quindi nel pieno stile del trasformismo che tanto allontana i cittadini dalla politica. La Rifondazione Comunista sta promuovendo insieme ad altre associazioni e singoli enti un ricorso per abolire la riforma del Rio.